Le isole Tremiti sono un paradiso a 50 minuti dal Gargano. Dopo una lunga esperienza di deserto a Monte Sant'Angelo è arrivato qui un monaco siriano. Un'isola bellissima, molto piccola. Mi permette di fare l'eremita per otto mesi. Perché qua tutto l'inverno c'è il silenzio, c'è il nulla. Bellissimo il nulla. Non so perché la gente mi passa a dire, mi vuole bene, perché non faccio niente. Fare il parroco è una cosa anche altrettanto bellissima. Perché quando un bambino ti chiama padre, ti fa commuovere. Padre, ma padre perché da orientale noi parroci siamo veramente il padre della comunità. Ogni anno celebra due matrimoni, quattro battesimi e tre funerali. La guerra civile in Siria l'ha tenuto lontano per otto anni dalla sua patria. Quest'anno sono andato con il permesso del vescovo per andare ad aiutare una comunità di trappiste italiane che hanno fatto una fondazione in Siria. Anche Lucio Dalla si era innamorato di questi luoghi. Lucio veniva ogni domenica a messa. Quando perdeva qua la messa sull'isola di San Domino, prendeva il suo gommone e veniva a messa a San Nicola. E si confessava anche. Era un personaggio, però era anche molto intelligente e profondo.